Un diritto, quello ad essere curati, che in Basilicata sembra stia venendo meno, partendo proprio dai problemi che attanaglia nel sistema sanitario lucano, soprattutto quello pubblico, la SPICGL ha lanciato una campagna di ascolto su tutto il territorio regionale attraverso la somministrazione di un questionario realizzato con il contributo di professori universitari per rilevare, analizzare e valutare nei nuovi ambiti socioassistenziali territoriali le esperienze, la soddisfazione dei cittadini e le problematiche riscontrate. Partire quindi dai bisogni delle persone, dalla loro condizione, dall'accesso alle prestazioni e dunque dal diritto alla salute, per riprogettare e costruire una sanità ed un welfare universale, inclusivi e di prossimità. Segretario, in Basilicata sembra che stia venendo meno il diritto a curarsi. Questo è un tema che ormai è emerso con tutta la sua drammaticità, basta guardare i dati sul deficit sanitario, che è una cosa allarmante per due ragioni. Noi abbiamo il più grande deficit della storia della sanità lucana e non abbiamo neanche i servizi. Questa è la grave contraddizione che è anche la cartina di tornasore del fallimento della Giunta Bardi che in quattro anni ha desertificato la sanità lucana. Perché vorrei evidenziare un punto che la causa del deficit della sanità ha due ragioni fondamentali, l'assenza di programmazione e l'assenza di servizi sul territorio. Basta guardare il dato della mobilità sanitaria dell'anno 2022, che è salita sopra i 65 milioni di euro, quella del 2021 era 52 milioni di euro, quindi 10 milioni di euro che stanno a certificare che molti lucani, non avendo rispondenza in Basilicata dei servizi per liste d'attesa e per carenze varie, si sono andati a curare fuori.